La Sabatino Impianti Tecnologici e Investimenti SRL, con sede a Cava dei Tirreni in via Gaudio-Maiori 83B, è una solida ed affermata realtà industriale che si avvale di un importante studio di progettazione interno. Il momento positivo della Cavese si vede dalla bella classifica che ha 53 punti nel girone H della Serie D, primo posto, quattro lunghezze di vantaggio sulle seconde quando mancano otto giornate alla conclusione del campionato. Non è il divario abissale che i bianco-blu erano arrivati ad avere alla sedicesima giornata, quando la formazione di Troise era avanti sette punti sulla più diretta inseguitrice, ma certo le quattro lunghezze non costituiscono neanche un vantaggio trascurabile. Sono questi i dati numerici quelli che saltano all'occhio, ma a indicare come sta lavorando positivamente la compagine Aquilotta c'è anche un altro dato relativo ai giocatori. La Cavese ha infatti ricevuto la convocazione dei due difensori laterali al torneo di Viareggio, Francesco Rossi, terzino destro classe 2003, e Mattia Maffei, terzino sinistro del 2004, i quali giocheranno per la rappresentativa di Serie D. Gli Aquilotti sono la squadra che fornisce più giocatori alla selezione allenata da Giuliano Gianni Chedda. Tra i convocati fa parte del Girone H anche l'attaccante Malik Opula del Brindisi, capace di far gol alla Cavese nella gara di campionato. Il fatto che ben due giocatori della Cavese siano stati convocati per il Viareggio, fatto mai accaduto prima, costituisce una vetrina. Certo, ma Maffei e Rossi dovrebbero partire per il raduno giovedì 16 marzo, ossia tre giorni prima della gara che gli Aquilotti dovrebbero sostenere con il lavello al Simone Talamberti, gara alla quale i due non parteciperebbero. C'è comunque una delibera approvata dalla LND che permette alle sole società con atleti convocati alla manifestazione internazionale di richiedere l'anticipo a mercoledì 15 marzo della gara oggi programmata per il giorno 19, nella fattispecie proprio Cavese-Lavello, e quindi poter disporre degli atleti stessi per il campionato. Ma la richiesta può essere inoltrata non oltre le ore 12 di domani. Il Sodalizio Aquilotto prenderà una decisione entro il tempo previsto. E allo stesso modo prenderà una decisione anche il Brindisi, altra squadra che è in lotta con la Cavese, il Nardò, il Barletta e il Casarano per il vertice, riguardo alla situazione di Opula. Il 19 marzo ci sarebbe Barletta-Brindisi. Intanto la Cavese domenica prossima dovrà giocare sul campo del Bitonto e lì tenterà di far rispettare la legge del più forte, anche se probabilmente la gara si dovrà giocare a porte chiuse, senza che i tifosi dell'una e dell'altra squadra possano recarsi allo stadio. La compagine di Troise proverà a regalare una soddisfazione ai propri tifosi, anche facendo risultato a Bitonto.